attenzione in questo gioco si si so cosa c'è in ogni gioco di fnaf c'è questa cosa si si clicco per continuare aaaaaaah siamo qui su tabiland 1 arcano... oh cazzo hanno messo... no 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 c'è un telefono bene hai un nuovo messaggio è tutto partito ecco ehi sport questo è la persona che ti ha intervistato sta facendo guardia notturn andi... ok ok è assunto inizi la settimana prossima lunedì domani... oh cazzo sapete che questa oh no 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 sapete che questa serie ciò ricordi del vietnam vero si muove qualcosa si muove si muove eh si muove si muove si muove oh cazzo ok partiamo all'avventura allora da quello che ci hanno detto ci dovrebbe essere un animatronic madonna che posto bruttissimo veramente da quello che ho capito c'è c'è un cubo di rubik fatto benissimo due coca cole un teletubbies di cartone una cosa che ho capito è che che uno deve utilizzare l'audio perché uno è cieco buongiorno ma buongiorno salve dove è andata dove è andato eccolo 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 la cioè mi sa che quello è il cieco è quello cieco è quello cieco mi sa eh poi non lo so ma è quello cieco porca puttana guarda senti questo questa canzoncina si chiama Mozart berda si chiama Mozart c'è soltanto un animatronic giusto? c'è soltanto un animatronic eh è scomparso NO NOOO no no basta più